Quel giorno volevo solamente aiutarla, le ho dato 100 euro, ogni Natale faccio un atto di carità verso i poveri. A parlare ancora Padre Graziano ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5 e la beneficiaria della carità del religioso è Cristina Repciuk, la prostituta di Perugia che sostiene di aver avuto una relazione con il frate congolese tra il dicembre 2014 e gennaio 2015. Il religioso, unico imputato nel processo per la scomparsa di Guerrina Piscaia, ha sempre smentito questa circostanza e lo ha ribadito fermamente ancora una volta nel corso della lunga intervista rilasciata alla giornalista Giorgia Scaccia. Non ho mai avuto una relazione con lei, volevo solo aiutarla, ha dichiarato Padre Graziano che poi ha ammesso di essere stato a casa di Cristina ma solamente per vedere l'abitazione e di aver dormito in albergo vicino a dove abita la donna, ma mai a casa sua. Poi è tornata a parlare dell'indagine che lo ha coinvolto e nuovamente ha ripetuto che si tratta di un'indagine indirizzata aggiungendo io so chi fa cosa. Intanto sabato sarà da Rezzo la nota criminologa Roberta Bruzzone, consulente dell'avvocato Nicola Detti, parte civile per Mirko e Lorenzo Alessandrini, rispettivamente marito e figlio della casalinga di Caraffello.